la presidente di fdi sul copasir casellati e fico si assumano responsabilità una mozione parlamentare che tocca molte battaglie storiche di fratelli d'italia e anche del centrodestra per consentire un riequilibrio delle politiche del governo draghi a favore delle idee e dei programmi che sono più vicini al centrodestra rispetto a quello che abbiamo visto in questi mesi così giorgia meloni presidente di fratelli d'italia durante una conferenza stampa per l'illustrazione di una mozione parlamentare sul rilancio economico dell'italia insieme al capogruppo alla camera francesco lollo brigida e al responsabile programma del partito giovan battista fazzolari ci aspettiamo ha aggiunto la leader di fdi che il presidente del consiglio si esponga chiedendo a pezzi della sua maggioranza segnatamente a quelli della sinistra di non pretendere di fare la parte del leone ovviamente non ci aspettiamo che tutti i punti di questa mozione vengano approvati se venissero invece bocciati tutti sarebbe l'ennesima dimostrazione di un governo troppo spostato a sinistra ostaggio di un'arroganza della sinistra che pretende di poter contare su pezzi del centrodestra per rimanere al governo senza fare mai mezzo passo indietro rispetto alle sue pretese porteremo la mozione in aula chiedendo la votazione per parti separate e speriamo che alcune di queste cose vengano accolte tra i 25 punti contenuti nel documento il raddoppio dei ristori lo stop al coprifuoco l'abolizione del tetto all'uso del contante la riforma fiscale con l'obiettivo della flat tax e della revisione della no tax area l'ampliamento dell'uso del golden power la web tax le risorse per il potenziamento del trasporto pubblico locale i sostegni per le zone terremotate gli interventi per roma capitale Grazie Grazie Grazie